Spazio siderale profondo, data astrale 187, velocità senza limiti. L'astronave interstellare Opera, il suo comandante e un equipaggio di valorosi robot, vagano raminghi nello spazio profondo alla ricerca di un segnale. Opera! Oh signora, ma è un segnale, adesso che facciamo? Da dove proviene questo suono? Forse via Lattea? Luna? Comandante, è musica! Sembra provenire dal pianeta, dal pianeta Terra, da Sanremo! Bello questo motivetto, dai connettiamoci. Siamo connessi! E io capo! Da oggi con Tim, chiami e navighi senza limiti su WhatsApp e sulle chat preferite. A 12 euro al mese. Carino, no? Grazie. Poi.